il top non credo qui abbiamo toni pisano in atterraggio vediamo se riesce arrivare sembra ancora un po' altino ma ora insisti un po' che forse li sai sì perché non può terminare presto non si quattro e mezzo vediamo un po' adesso toni fa le orecchie va bene vai se vai giù ti veniamo a prendere sta rinforzando adesso dai se parti può darsi che anche toni con le orecchie non scende se stai su o vengo su al tiro sta ripoppando toni non c'è nessuno 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 però non c'è nessuno